Ida Gattuso, sorella dell'ex calciatore e attuale allenatore dell'Olympique Marsiglia-Rino, è stata nuovamente oggetto di intimidazione. Dopo l'incendio dell'auto avvenuto il 17 ottobre scorso, i gnoti hanno appiccato il fuoco anche alla sua seconda vettura, un SUV Opel Grandland. Il veicolo, parcheggiato sotto la sua abitazione nella frazione di Schiavonea, a Corigliano Rossano, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Gli investigatori non hanno dubbi sulla natura dolosa dell'incendio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, i quali hanno avviato le indagini su questo secondo episodio criminale. È importante notare che la donna in passato ha ricoperto il ruolo di consigliere nell'allora comune di Corigliano Calabro, prima della fusione con Rossano.